scoppia il primo scontro nella puntata in onda il 13 settembre 2023 tra l'opinionista e la dama con l'intervento finale di maria a uomini e donne è arrivato il momento di manuela carriero di vivere la sua esperienza da tronista l'ex protagonista di temptation island ha raccontato la sua storia nella clip di presentazione e i presenti si sono commossi parecchio durante la puntata di oggi lei stessa è apparsa molto emozionata quando è arrivata in studio dove ha avuto modo di conoscere i suoi corteggiatori ed ecco che è arrivata il primo scontro di questa edizione con maria de filippi che ha tenuto la situazione sotto controllo ciò è accaduto quando la padrona di casa ha chiesto di far entrare in studio un regalo per gianni sperti ebbene aurora tropea ha deciso di regalare all'opinionista diversi pacchi di zucchero la dama ha spiegato di aver scelto questo regalo perché convinta che in lui ci sia dolcezza che però non mostrerebbe nello studio di canale 5 il gesto ha infastidito non poco gianni come si poteva immaginare la stessa aurora di sicuro aveva messo in conto che così avrebbe scatenato una lite sperti a uomini e donne si è subito scagliato contro la tropea accusandola ancora una volta di contraddirsi da sola e di non essere coerente in particolare l'ha attaccata attraverso una foto che lei ha condiviso su instagram nei mesi scorsi in cui appare senza veli sul suo letto coprendosi solo con un braccio gianni ha ammesso di non essere assolutamente contro le foto di questo genere trova però che aurora non dovrebbe criticare le altre donne del parterre quando lei stessa condivide certe foto preoccupati della tua dignità che hai condiviso delle foto in cui sei nuda una foto dove scrivi chi vuole darmi la felicità in quella foto non sembri umile non sono contro le foto nude ma sei fuori luogo tu che fai la paternale a tutti e poi pubblichi le foto nuda su instagram io non sono né buono né cattivo sai cosa ti dispiace che io sono vero anche se a te non piace tu non accetti la critica vuoi essere elogiata da tutti dimmi che ti ho detto l'anno scorso per essere stato cattivo